Buongiorno a tutti, sono Jeanette, la vostra istruttrice di Aerobica e Personal Trainer. Allora, anche oggi faremo il nostro allenamento insieme, oggi soprattutto esercizi per rinforzare gli addominali e per rinforzare i muscoli della schiena, praticamente tutti i muscoli che servono per avere una bella postura. Benissimo, comunque ci troviamo nella palestra Fit & Sports dietro l'albergo Greif che ci ospita durante il nostro allenamento. Benissimo, prima di cominciare vi consiglio di consultarvi il vostro medico curante per evitare i problemi ulteriori. Benissimo, posizione di base, mettiamo i piedi un po' più larghi delle spalle e cominciamo con il nostro, con la nostra respirazione. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, avvicino le scapole e allontaniamo le scapole, inspiro, espiro, ancora due, inspiro, espiro, ultimo, inspiro, espiro e sciolgo le spalle. Bene, benissimo, da questa posizione semicerchio con la testa, attivo la parte cervicale, ancora. Piano, piano, lentamente, lentamente, non dovete avere fretta, soprattutto perché abbiamo, ancora abbiamo i muscoli abbastanza freddi. Prima di cominciare i movimenti, dobbiamo riscaldarli. Ultimo, bene, sciolgo un po' le spalle da questa posizione, attivando gli addominali, di nuovo, parte dorsale, porto in avanti il bacino, curvo la schiena, risucchio l'ombelico. Inspiro, espiro, stringo i glutei, inspiro, espiro. È un movimento che potete fare anche ogni giorno, vi fa sempre bene. Inspiro, espiro. Con il controllo, ancora, quattro, tre, oggi riscaldiamo bene questa zona perché tutti i movimenti saranno concentrati. Ultimo, bene, spalle sciolte, rilassate, tenendo il centro, attiviamo. I flessori, gli estensori del bacino, stringo i glutei, tengo gli addominali, anche al contrario. Espiro mentre porto il bacino in avanti. Quattro, tre, due e uno. Benissimo. Da questa posizione, allora, il solito, però adesso non spostiamo il peso, ma solo facciamo un attimo di movimento per riscaldare le gambe. Come vedete, le ginocchia rimangono sempre leggermente piegate. Scattando le ginocchia, praticamente ci appoggiamo sull'articolazione e noi vorremmo evitare questo. Teniamo i muscoli sempre attivi, così l'articolazione rimane protetta. Ancora un poco, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. E adesso la mobilità di tutta la colonna vertebrale. Curvo la schiena e allungo di nuovo. Curvo la schiena, stringo i glutei, risucchio lombrico e allungo. Spiro, inspiro, inspiro, la schiena rimane neutra. Inspiro, evitiamo la posizione troppo inarcata. Inspiro, inspiro, quattro, tre, due e uno. Uno, ed ondolo su, da vertebra a vertebra. Benissimo, allora già possiamo anche cominciare il lavoro degli addominali, praticamente obliqui e trasversali, tutta questa fascia qua, alzo le braccia, sciolgo le spalle, fletto le ginocchia e da questa posizione faccio una piccola torsione, il collo segue la linea della colonna vertebrale e torno nel mezzo. Se guardate bene il bacino rimane fermo. Inspiro, 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 attivate gli addominali, inspiro. Appartiene ancora un po' al nostro riscaldamento, però già cerchiamo di attivare i muscoli profondi degli addominali. Ancora quattro, tre, due e uno. Bene, la stessa posizione, però inclinazione destra, sinistra. Le braccia rimangono nella stessa linea, come se fossero un righello. Inspiro, il bacino, anche in questo caso, tutto fermo, solo destra, sinistra. Stringo i glutei, non perdo il controllo, attivo gli obliqui, lavoro con il girovita un poco. Inspiro, il collo segue la linea della colonna vertebrale. otto, sette, nel frattempo forse sentite anche le spalle. Va benissimo, non è un problema, con più muscoli lavoriamo, meglio è. Se riuscite a fare con la tecnica giusta. Bene, quattro, tre, due e uno. Bene, sciolgo le spalle, potete allungare per un attimo le spalle, perché so perfettamente che di spalle di solito siamo un pochettino più deboli. Che non è un bene, dovete rinforzare, dobbiamo rinforzare un po' le spalle, a parte per avere una bella forma, anche perché, come vi ho già detto, se la spalla è più forte, allora sforziamo di meno questa zona già abbastanza stressata. Bene, allungo la spalla dall'altro lato. Ottimo. Ok, e adesso allunghiamo per un attimo gli obliqui che abbiamo fatto lavorare. Una gamba dietro, e alzo lo stesso braccio, e praticamente allungo il lato. Tiro, tiro, tiro. E cambio. Dall'altra parte, gamba dietro, lo stesso braccio sopra la testa. Su, su, su. E giù. Benissimo. Allora, continuiamo con il lavoro un po' delle braccia, degli addominali, e un po' anche delle gambe. Chi vuole può prendere un peso, però si può fare anche senza. Allora, il vostro lavoro dipenderà tanto dalla concentrazione. Se riuscite a concentrarvi e contrarre gli addominali, mentre alzate il ginocchio, farete lavorare tanto anche gli addominali. Altrimenti, comunque, non potete sbagliare tanto, perché lavorerete più con il quadricipite e con le braccia. Allora, le mani davanti. Inspiro. In questo caso potete curvare un po' la schiena. Ma piccolo movimento. Se vedete, non porto troppo in giù la mano. Non lavoro tanto con le braccia, lavoro soprattutto con il ginocchio. Espiro. 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 Un po' di equilibrio anche. Alzo bene il ginocchio. Cerco di portare un po' in avanti il bacino, tenendo la contrazione. Ancora. Faccio lavorare un po' le spalle. Espiro. Cercate di contrarre gli addominali. Contraggo. Ancora. Ancora. E su. Dieci. Espiro. Nove. Conta ogni secondo. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ultimo giro. E uno. Benissimo. Appoggiamo il peso per un attimo. Abbiamo fatto lavorare la parte anteriore del deltoide, un po' gli addominali. Avete tenuto anche con il bicipite, quadricipite e i flessori del bacino. Bene. Allora, continuiamo con il lavoro della schiena. Due manubri. E per la vostra gioia possiamo sederci. Ops. Eccomi, sono avvicinata. Importante. Ci mettiamo praticamente quasi sul bordo della sedia. State attenti a non cadere, perché comunque l'equilibrio si perde facilmente. La schiena sempre dritta. Mi inclino in avanti, tenendo la schiena. Come potete controllarvi? O vi guardate nello specchio, oppure se non avete lo specchio. L'unica cosa per tenere la schiena bene è alzare un po' le spalle, portare le spalle indietro e tenere. Cercare di tenere le scapole abbastanza chiuse. Se sentite che le scapole si allontano, si allontanano, allora c'è la probabilità che avete perso il controllo della parte dorsale. Allora curvate la schiena. Soluzione. Chiudo le scapole e cerco di spingere un po' il torace in avanti. Ovviamente tenendo nello stesso tempo gli addominali, così evitiamo di inarcare la schiena. Un po' troppa informazione. Insomma, scapole chiuse, addominali. Inclinazione di 45 gradi e da questa posizione cerco di alzare i pesi ai lati. E giù. Provate a rilassare un po' il collo. Il collo segue la linea della colonna vertebrale, però lavoro con la schiena, non con il collo. E giù. E giù. Ancora. 8 7 6 5 4 3 2 1 Una volta qua. Per un attimo ci rilassiamo prima di continuare. Chiudiamo un po'. Allunghiamo un po' la schiena. Curviamo la schiena. Peso dietro. Bene. Alzo la testa. Inspiro. E ancora una volta. Curvo la schiena. Inspiro. Allungo, allungo, allungo. Radrizzo. Inspiro. E curvo la schiena. Inspiro. L'ultimo. Su. Inspiro. Ancora un giretto ormai, essendo in questa posizione. Di nuovo, come prima. Scapole chiuse. Mi inclino in avanti. Piedi ben appoggiati, chiusi. E adesso tiro su i gomiti. Praticamente i pesi vanno accanto alla coscia. E i gomiti ben chiusi dietro. Collo lungo. Espiro. Un po' di rematore. Con due braccia insieme. Espiro. Espiro. Chiudo le scapole e stendo le braccia. Ancora. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Appoggiate i pesi. Potete rilassarvi. Potete buttare un po' il peso in avanti. Rilasso la schiena. Solo per un attimo. E dopo lentamente su. E facciamo lo stesso allungamento di prima. Le mani sulle ginocchia. Curvo bene la schiena. Potete anche tirare un poco. Tiro, tiro, tiro. Radrizzo la schiena. Inspiro. 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 Curvo la schiena. Tiro, tiro, tiro. Dovete sentire l'allungamento. Non basta buttare il peso all'indietro. Ma dovete tirare un poco. Su. L'ultimo. Curvo bene. Tiro, tiro, tiro. E su. Benissimo. Addominali. Oggi dedichiamo abbastanza tempo per gli addominali. Eccoci. Anche se comunque è importante sapere che la pancia piatta non dipende solo dalla quantità degli esercizi che fate per gli addominali, ma purtroppo dipende dalla quantità del cibo. Questa è sempre una triste notizia, ma è così. Anche se facciamo tantissimi addominali, se mangiamo tanto, gli addominali si rinforzano e sopra gli addominali troveremo la ciccia. Lo so. Anche a me è una battaglia continua, ma pazienza. Benissimo. Allora, cominciamo con il rinforzo dei trasversali. E stendo. Mi sento un po' troppo lunga. Allora, estendo le gambe, le braccia rilassate. Attiviamo i trasversali. Per ora ho il buco sotto la schiena, sotto la parte lombare. Cosa devo fare? Rissucchio l'ombelico. Butto fuori l'aria e schiaccio la schiena contro il tappetino. Schiaccio con tutta la mia forza. In questa posizione le ginocchia automaticamente un po' si alzeranno. Ma questo deve diventare una roba praticamente automatica. Voi concentratevi al movimento della schiena contro gli addominali. E mi rilasso. Inspiro, di nuovo, espiro, schiaccio la schiena contro il tappetino. Schiaccio, schiaccio, schiaccio. Attivate i trasversali, questi muscoli profondi degli addominali che sono responsabili sia per questa fascia qua che per tenere la postura. Inspiro, espiro, schiaccio, schiaccio, schiaccio. Butto fuori l'aria. Io parlo, ma voi basta se soffiate un poco con la bocca. Inspiro, espiro, schiaccia bene, schiaccia bene. Risucchio l'ombelico, dovete proprio concentrarvi al movimento. Inspiro, di nuovo, espiro. Spingo, 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 spingo. E inspiro. Ultimo. Schiaccio bene, schiaccio bene. Quattro, tre, due, uno. E giù. Benissimo, flettiamo. Una gamba, vabbè, comincio con l'altra. L'altra gamba è stesa, le mani dietro. E adesso, alzando la gamba, nello stesso tempo alzo le spalle, però il movimento rimane dritto. Su. Alzo la gamba finché le due cosce arrivano nella stessa linea. E giù. La spalla rimane nell'aria. Ne facciamo quindici. Due. Tre. Espiro. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. E quindici. Cambio gamba. Di nuovo. Prima di cominciare, schiaccio la schiena contro il tappetino e su. Uno. Due. Alzo la spalla. Tre. Quattro. Quattro. Cinque. Quattro. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quattro. Quindici. benissimo e non abbiamo finito ancora un ultimo movimento che mi piace soprattutto perché potete rilassare la schiena un movimento praticamente un doppio movimento contrario alzo le gambe le mani contro le ginocchia spingo giù la parte lombare cerco di tirare su le ginocchia e con le mani invece le spingo nell'altra direzione 1 2 3 espiro e cerco di schiacciare le mani contro le ginocchia e mi rilasso inspiro e 1 2 3 schiaccio forza 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 ancora tre giri tenete 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 e mi rilasso ancora inspiro e spiro schiaccio 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 con la forza dovete tremare un poco e giù ultimi 2 su schiaccio 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 4 3 2 1 e giù l'ultimo inspiro e su cerco di allontanare le ginocchia e invece con le ginocchia lavoro contro e giù benissimo allora addominali a posto schiena a posto appoggio anzi butto un po' le ginocchia al lato una gamba appoggiata l'altra gamba piegata un po' sopra e con il braccio guardo nella direzione opposta entrambe le spalle rimangono appoggiate un po' allungo la schiena rilasso gli addominali cambio lato ostacoli dall'altra parte allungo 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 rilassate un po' la schiena rilassate gli addominali bene torno su metto le mani sulle ginocchia dondoliamo su da vertebra a vertebra incrocio le gambe dietro guardo dietro la spalla allungando la schiena tiro 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 cambio allungo allungo tira bene e giù le mani sulle ginocchia allungo la schiena rilasso le spalle lentamente su sciolgo allungo per un attimo il collo per finire bene cambio piano bene sulla testa inspiro espiro espiro ultimi due ultimo benissimo rilasso le braccia abbiamo finito anche per oggi vi saluto nuovamente dalla palestra fit and sports e ci vediamo la prossima volta buona giornata a tutti ciao ciao ciao